Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella al cioccolato senza uova. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, latte, olio di semi di rachidi, cacao amaro, acqua, lievito per dolci vanigliato, vanillina, pasta d'arancia o aroma d'arancia. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la farina, il cacao amaro, la vanillina, l'olio, l'acqua, il latte, la pasta d'arancia e il lievito. Ed azionare il bimbi per 4 minuti a velocità 4. Il composto è pronto. Trasferire in uno stampa a ciambella da 24 centimetri. Cuocere in forno prediscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella al cioccolato senza uova. Grazie e la prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie.